Il protagonista è uno tipista, uno che pensa che il senso ci sia. Raimond è diventato inutile, ha passato una vita di forte utilità in cui ha cresciuto e non accetta l'inutilità. Il suo amico libro, perché è diventato in amici, è vissuto sempre l'inutilità perché i libri sono tra virgolette tra le cose più inutili della vita, che potrebbero non esserci, non sono vitali, poi potremmo spostare il discorso e non funziona più niente. Però diciamo che oggi comunque il libro è l'emplema della cultura inutile. Per me sì. Anche perché, sì, non lo svegliamo. Cercheremo di non raccontarvi niente del libro. Ci siamo più nemmeno, mi sa. Sì, sì, ha una trama non da poco. Tanto vorrei che fermaste l'attenzione sul titolo di Esercito, quindi c'è anche una guerra. Sì, 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 sì.